Microsoft Briefing abbiamo appena concluso la conferenza Microsoft diciamo che sicuramente un titolo molto interessante è stato Forza Horizon 4 non sicuramente non atteso visto che comunque ogni anno Microsoft presenta un Forza l'alternanza quest'anno ha portato Playground Games a mostrarsi nuovamente al mondo con quella che è l'evoluzione sicuramente non definitiva ma un bellissimo passo in avanti perché quella alternanza delle stagioni che c'è anche stato un po' uno scambio di opinioni tra i fan di Gran Turismo e quelli di Forza Horizon nei corsi di questi anni su questo benedetto cambio di stagioni è stato finalmente concretizzato da Playground Games a me è piaciuto cosa ne pensi Forza Horizon 4 Umberto? Allora l'ho trovato sempre molto bello io sono un fan della serie mi è sempre piaciuta perché mescola veramente il meglio di quello che è Forza con però un'impostazione molto più aperta giocosa, ludica, d'arcade Forza Horizon 4 sembra avere intanto un'ambientazione che mi piace molto non sono il più grande fan della Gran Bretagna in assoluto però ho trovato che veramente dei bei panorami e tra l'altro è un'imitazione che permette una varietà a livello diciamo naturalistico non so se è Britain intendevano la Britannia no 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 tu dici Gran Bretagna? sì le isole sì 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 perché comunque ha una buona varietà a livello naturalistico si è visto anche qualche immagine dalle città ma soprattutto ha questa nuova integrazione con un sistema delle stagioni che sembra veramente molto evoluto in pratica quello che succede è che ci saranno tutte e quattro le stagioni all'interno del gioco e ci è stato fatto vedere come effettivamente al passare delle stagioni cambia anche il gameplay ci sia un effettivo peso sulle dinamiche di gameplay alcuni esempi facilissimi e molto banali quando arriva l'inverno cade la neve ovviamente cambierà il grip dell'asfalto ma soprattutto si aprono nuove possibilità di gioco perché hanno fatto vedere come un lago che durante l'estate ovviamente non è percorribile dalle automobili se non per l'overcraft che si vede in un certo momento del trailer d'inverno si ghiaccia ed evidentemente i piloti di Forza Horizon 4 si sentono così confident nelle loro capacità da passare sul lago a parte questo le quattro stagioni è stato promesso che avranno altri impatti sul gameplay che è più difficile immaginare rispetto alla neve e al ghiaccio e che però anche a livello grafico si riflettono in uno spettacolo notevolissimo perché in effetti a parte la coreografia durante la conferenza di far cadere le foglie autunnali nel momento in cui fanno il passaggio all'autunno ma sembra un gioco veramente bello tecnicamente tra l'altro tutti i Forza Horizon sono sempre stati molto belli questo è il primo che se non erro solo su Xbox One X e poi anche su PC andrà a 60 frame al secondo quindi devo dire che non so cosa ne pensi ma ne ho trovato anche uno spettacolo per gli occhi bellissimo da vedere assolutamente loro sono molto bravi non a caso sono stati acquistati ufficialmente quindi la news che girava era vera il primo elemento interessante l'abbiamo raccontato ce n'è uno ancora forse più bello che è il discorso community c'è da dire che se da una parte Gran Turismo va verso gli esports Forza Horizon va verso la community proprio questo concetto di girare abbordare gli altri mentre si guida iniziare a fare le corsi insieme comunque è una cosa innovativa sì è vero in realtà diciamo che è un'idea che gira da parecchio tempo è dal vecchio Test Drive Unlimited che c'è questa idea di creare loro lo chiamano shared open world un open world condiviso con la possibilità di fare i fari o mandare le moti alla macchina incontrata giocando e poi farsi l'amica diciamo al tempo di Test Drive Unlimited ormai sono passati diversi anni era forse un'idea un po' prematura adesso con le nuove console con la tecnologia a livello di network di Microsoft è certamente possibile fare qualcosa di molto più completo sono davvero curioso perché a parte le feature social quindi la possibilità di farsi gli amici di giocare probabilmente in mille modi diversi ma aspetta da questo Forza Horizon veramente un'evoluzione di quello che poi si è visto anche in The Crew nei vari Need for Speed ed è molto interessante perché bisognerà capire qual è la mappa me l'aspetto chiaramente enorme ma quanti giocatori saranno effettivamente sulla stessa mappa quante opportunità e meccaniche permetteranno di incontrare altri giocatori e di interagire perché poi la cosa particolare dei giochi di macchina è che sei a bordo di una macchina e le interazioni tra macchine sono limitate rispetto alle interazioni tra persone chiaramente quindi insomma sono molto curioso di capire come si svilupperà Ok, anche qua Forza Horizon forse è l'unico gioco tra quelli annunciati in uscita nel 2018 quindi Forza comunque mantiene tra le esclusive esatto mantiene una cadenza annuale insomma siamo rimasti abbastanza soddisfatti possiamo dirlo Forza Horizon 4 sembra garantire comunque un approccio ludico che è quello che ci aspettiamo da Forza Horizon quindi estremamente qualitativo ci rimandiamo a questo punto a un provato dalla fiera è imminente, sì assolutamente nei prossimi giorni torneremo a parlare di questo e delle altre esclusive Xbox Grazie